La sua passione sono i motori e le auto, ma ancora di più, la sua voglia è di vivere e di poterlo fare anche oltre 40 anni stimati dalla medicina. La 21enne Rachele Somaschini è malata di fibrosi cistica e sarà a Gubbio per il cinquantesimo trofeo Fagioli, come testimonial della ricerca sulla fibrosi cistica perché dice contribuire alla ricerca è fare dono di un domani. La pilota afferma anche, secondo le statistiche sono una donna di mezza età, eppure non ho realizzato nemmeno una delle cose che progettano le persone adulte perché ho un sacco di sogni e il timore di non avere tempo sufficiente per realizzarli. Quindi lo stand a Gubbio in occasione del trofeo Fagioli attende tante donazioni. Ed è una malattia molto dura e difficile che ti fa vivere una vita con cure pesantissime, tantissimi antibiotici, ricoveri anche di due settimane e un mese. E quindi per me correre e riuscire a correre è anche un traguardo, anche solo quello, riuscire a partecipare alle gare. Io poi ovviamente sono un pochino più fortunata di altri malati perché ho delle mutazioni genetiche che sono un attimino più leggere, quindi mi permettono appunto di riuscire a correre, riuscire a parlarne, che appunto essendo una malattia molto diffusa ma poco conosciuta è importantissimo parlarne e far capire a tutti che esiste e purtroppo non è neanche così difficile che si entri a contatto con questa malattia perché la popolazione italiana, una persona su 25 è portatore sano e non sa di esserlo perché non ha alcun sintomo. E' facilissimo, non facilissimo, ma è possibile che si incontrino due portatori sani e abbiano la possibilità di generare un figlio malato e questo porta a diverse complicazioni che è meglio non incorrere. Quindi se si riesce a parlare e far capire che esiste, far test genetici prima e anche far delle indagini genetiche e evitare questa malattia è anche meglio, anche perché non c'è una cura per questa malattia. Ovviamente l'unico modo per trovare una cura è finanziare la ricerca e la fondazione per la ricerca che è l'unica agenzia nazionale che ci dà una speranza e permette anche di innalzare l'età media di vita che purtroppo è abbastanza limitativa. Io ho 21 anni e quindi mi dicono che sono una donna di mezza età ma spero che non sia così e che si riesca a trovare una cura in tempo.